Un piccolo tranello abbiamo saputo che lei c'ha... Ho visto io che lei ha cantato in un film, no? Sì, ma qualche anno fa... Qualche anno fa, io me la ricordo ancora. Perché tranello? Tranello perché, come voglio vedere, si ricorda le canzoni che cantano i film, perché di solito voi tenori bravissimi nell'immensità del vostro repertorio le prese con una canzone come Come le notte, che è pur sempre bella, ma è una canzone, forse la dimenticate. Invece lei subito, di questo noi musichieri siamo un po' riconoscenti. Sono tornate a fiorire le rose alle dolci carezze della sua... La voce metallurgica mi ha detto, io non lo so. Io vorrei sapere lui che parla tanto come la canterete, però... Beh, lei ha detto che l'ha sentita, quindi è una storia che... No, no, ma la deve far sentire. Eh, ma non mi ricordo le parole, perché... Ah, non si preoccupi. Quando l'ho registrata, lo mette lì su un momento, le parole non me le ricordo affatto. Ma noi abbiamo tutto, musica, parole, bruno, va. Sono del Monaco, la prego, lasciamo un momento intenziale... E ci... ci delizio. Beh, veramente... Un tradimento, sempre, che adesso non so come... Un tradimento, un tradimento. Tutto a tradimento. Vieni. La sonora di taglia? Ecco, faccio. Buon sapore, viaggio. Consorna mafia ha fiori vere vere a te... A la dolce carezza del sol... Le farfalle sin seguon fessote... Nel azzurro con trepido프�, Ma le rose non sono più quelle che fiorivano un giorno per te, quelle rose con forze più belle, ma non hanno provo per me. Solo la tua voce è gertile, più uno non ha lieto al mio sole, come le voce d'aprire le foglie d'amore. Sono morte per me.